Parola d'ordine, no spoiler! Quante volte vi è capitato di seguire una serie e avere l'amicone di turno che legge il manga che vi dice Ma lo sai che alla fine è... Ecco, queste situazioni capitano proprio a causa degli adattamenti, ma in realtà questi possono assumere due nomi diversi in relazione al tipo di narrazione e ai medi impiegati. Quindi, infatti, parliamo di cross-medialità quando una storia viene riportata quasi di pari passo da un medium a un altro, come nel caso di Attack on Titan Mentre si parla di trans-medialità quando la storia è una, ma si sviluppa in diversi media, come film, fumetti, videogiochi, serie tv, serie animate, come nel caso di Matrix. E a voi quale serie hanno spoilerato male? Scrivetelo nei commenti, e con malavoglia!